Stanno per partire. Su Viva la vita che è tratta all'esterno di Vistuara. Il corda moriando i guacce all'esterno ci sono tre discuteria, una dietro l'altra. Il corcetto di questo è sfido da visioni intense, procedente da visito royal, passa Viva la vita davanti al tribune su Vanicad e Ruyel, che chiede lo scambio, poi Vistuara che precede visito royal, vorendo guacce all'esterno Vals Darling, si chiama Immicato, con Vanicad e Ruyel, il buon vantaggio sia verso metà gara, allungato decisamente Vanicad e Ruyel, sempre su Viva la vita di Spuara, bisogno intenso di visito royal, all'interno di Ruyel, sempre Vanicad e Ruyel, un buon vantaggio, seguito sempre da Viva la vita, che possiate victuare, poi visioni intense, le taggare passate, Vanicad e Ruyel, un buon vantaggio, manca mille, mancano mille metri l'ultimo chilometro, arriva la vita al secondo, vittuare il terzo, poi visito royal con all'esterno Vals Darling, visioni intense, e l'interfezione di questo, come vediamo, Vanicad e Ruyel a bella curva di vantaggio, ora c'è una soluzione di una curva, quindi dov'avamoci, se la vogliamo andare a prendere Vanicad e Ruyel in buon vantaggio, sta ancora, in piena spinta, su Viva la vita di Viena, su Vitiare, Valsy Darling, poi visito royal, Viva Island, e Verrindo Cagno, Vanicad e Ruyel, il nettissimo vantaggio, l'unicidicante aveva il suo interpete, c'è lotta solo per le piazze, i tre di scuderia, e quasi avrebbe,